Senza un'energica scossa positiva la Sardegna continuerà a vivere una difficilissima congiuntura economica oscillando pericolosamente, come è successo negli ultimi anni, tra recessione e stagnazione. Anche nel 2016 la Sardegna segnala come la regione italiana è meno capace di cogliere i deboli effetti espansivi che l'attuale debole congiuntura economica propone. Le ultime previsioni per l'anno in corso assegnano alla Sardegna una crescita del PIL dello 0,3%. E' questa la posizione che la CNA e l'impresa Sardegna ha espresso attraverso i suoi dirigenti alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale nel corso di una adizione in vista dell'approvazione della finanziaria 2017. Il Presidente Pierpaolo Piras e il Segretario regionale Francesco Porcu hanno sottolineato, dati alla mano, la necessità di una netta discontinuità nell'azione politica per rilanciare la crescita economica che in Sardegna negli ultimi anni si è rilevata assai più debole rispetto al resto delle regioni meridionali. A destare grande preoccupazione hanno sottolineato i dirigenti della CNA e l'arretramento dell'economia isolana su indicatori e segmenti economici decisivi e strategici. Una situazione ancora più preoccupante, si legge in una nota dell'Associazione, se questi indicatori sono il risultato di una comparazione che mette la Sardegna a confronto con le regioni più povere e depresse del meridione d'Italia. La CNA ha indicato quattro grandi questioni in grado, secondo l'Associazione, di qualificare la legislatura dandogli un profilo positivo. Riportare sotto controllo i conti della sanità, riorganizzare ed efficientare la macchina pubblica regionale e la pubblica amministrazione, gestire il rapporto con lo Stato secondo un giusto equilibrio che riduca le odierne penalizzazioni, rilanciare la crescita economica e con essa ridurre il disagio sociale rilanciando l'occupazione. La CNA ha promosso l'avvio di una scossa al sistema economico isolano che può arrivare da un piano straordinario per il lavoro da 100 milioni di euro che rilanci gli investimenti con opere pubbliche di piccolo taglio ad alta intensità di manodopera, elevata reddittività ed immediata cantierabilità da finanziare con il Fondo Suirsi che ammonta oggi a circa 250 milioni di euro. Grazie. 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 Grazie.